Infine, il potenziamento di misure finalizzate a promuovere l'occupazione femminile e la genitorialità. Un tema particolarmente delicato e urgente nel nostro Paese, che è un Paese che ha un tasso medio di occupazione basso rispetto a molti altri Paesi europei. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che il numero dei cittadini italiani che trovano un'occupazione, trovano un lavoro, hanno l'opportunità di lavoro aumenti per produrre più ricchezza e produrre una più piena e completa vita di questi cittadini alla vita del loro Paese.